Al Palazzo Fiorentino di Stia la mostra Falsi d'Autore è ancora un grandissimo successo. Tra l'altro quest'anno sono state aggiunte due importanti sezioni. Insomma l'arte e la storia da questo territorio lancia davvero un bel messaggio. Nell'ultima edizione, cioè nella quinta, abbiamo registrato circa 6.000 presenze. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere ai Falsi d'Autore altre iniziative. Tutto questo al fronte di incuriosire sempre di più il pubblico per cercare di aumentare già il numeroso pubblico attuale. Sono le eccellenze del Casentino, le 10 migliori aziende del Casentino. Abbiamo invitato un'azienda di Sinalunga che riproduce le macchine di Leonardo, che è una cosa fantastica. Un modo per portare anche la grande arte al pubblico, no? Sì, è un modo simpaticissimo appunto di portare, perché il pubblico che viene a visitare questa mostra si vede con entusiasmo, guarda i quadri, dice ma io questo l'ho visto al museo qui e là, si ricorda. È un falso, ma è un falso fatto bene. Tanta storia e tanta cultura in un posto che la rappresenta molto bene. È un palacio fiorentino, oltre a essere diventato da poco anche sede comunale, ma soprattutto il nostro gioiello che cerchiamo di mostrare a tutti, creando tanti eventi, soprattutto culturali, legati a questo luogo. E sicuramente queste mostre che sono in corso ora ne sono un esempio molto importante. Grazie a tutti.